Siamo alla fine di Volvo Vista, la competizione dedicata ai tecnici, ma come si diventa tecnici per Volvo Trax? Il percorso diciamo che prevede l'inserimento a partire da un istituto tecnico o da una scuola professionale e prevede un'esperienza sia sulla parte meccanica del veicolo e poi sulla parte elettrica e sulla diagnostica e tutta la parte elettronica. È un percorso molto articolato che viene seguito da Volvo Trax attraverso la scuola. Noi abbiamo una Track Academy in Italia che forma tutto il personale tecnico di Volvo Trax ed è un percorso che può portare dei ragazzi che abbiano dimostrato la volontà, la capacità e alcune caratteristiche fondamentali per aver successo in questa professione a ricoprire dei ruoli chiave nell'organizzazione di un'officina, di un centro di assistenza di Volvo Trax. Ci sono posizioni molto importanti come un capo officina, pensiamo ai ragazzi che sono qui di Iron Knight e di Bassano Diesel, sono officine molto grandi, più di 20 tecnici e un responsabile di officina è assimilabile a un direttore d'orchestra, quindi un lavoro di grande responsabilità ma anche grandi soddisfazioni. Oppure altri ruoli chiave come responsabile del servizio al cliente o responsabile del magazzino ricambi. L'Italia è che abbiamo sempre bisogno di nuovi tecnici, considerate che noi quest'anno inseriremo circa una trentina di tecnici sulla nostra rete ma in effetti la necessità è ben più alta. E' strano perché in un paese in cui il problema dell'occupazione giovanile è in cima all'agenda politica nazionale una carriera, una professione come quella di tecnico di camion sia forse sottostimata. Ed è un problema di conoscenza. Infatti noi collaboriamo con tanti istituti tecnici sul territorio e andiamo a spiegare ai ragazzi che questo percorso non ha niente a che vedere con il lavoro tradizionale del meccanico che loro immaginano. Ma è un lavoro che porta a sviluppare delle competenze e una conoscenza su un prodotto molto complesso con un altissimo contenuto di innovazione tecnologica ed è un prodotto a cui intorno ci sono anche una serie di servizi che creano valore per i nostri clienti. E quindi abbiamo un grande bisogno di giovani e quindi l'invito è ai giovani in Italia che si vogliono fare avanti, Volvo Trucks li aspetta.